Un tour fra le capitali europee per fare scoprire la nuova serie speciale di Fiat 500 collezione. Il museo Piaggio si rinnova e cresce in Giappone. Japan Benex, Sumitomo Corp e Nissan per un sistema di produzione e stoccaggio di energia davvero efficiente. Milano, Londra, Berlino, Madrid e Parigi sono le metropoli che verranno toccate dal suggestivo tour che porterà la nuova serie speciale 500 collezione di Fiat in giro per l'Europa. Una serie che celebra l'essere senza tempo, l'iconicità e la personalità di una vettura che è diventata un vero e proprio mito. Disponibile berlina o nella versione cabrio, arricchita da dettagli davvero unici. Inoltre fra le peculiarità troviamo le nuove livree, i nuovi accoppiamenti di colori molto primaverili come ad esempio Primavera e Acquamarina. Ciliegina sulla torta, il logo cromato in corsivo, collezione presente sul portellone posteriore. Una serie speciale che oltre ad essere elegante e raffinata offre anche il meglio della tecnologia a bordo. Si può infatti scegliere la radio Uconnect da 7 pollici HD Live che integra le funzionalità Apple CarPlay e Android Auto con inoltre il navigatore con mappe TomTom. La nuova 500 collezione è già disponibile negli showroom italiani. Per l'occasione i concessionari saranno aperti anche il fine settimana del 21 e 22 aprile. Dopo ben 18 anni di attività e un successo segnato da 600.000 visitatori, il Museo Piaggio si rinnova e passa da 3.000 a 5.000 metri quadrati di spazio con oltre 250 preziosi pezzi da collezione esposti. Aprirà al pubblico il 21 aprile con la mostra Future Piaggio, sei lezioni italiane sulla mobilità e sulla vita moderna che sarà visionabile fino al 10 di giugno. Diventa così il più grande museo nel nostro paese dedicato alle due ruote capace di raccogliere modelli unici e di raccontare la storia del gruppo. L'aumento della superficie espositiva è stato possibile grazie al recupero e al restauro di antichi siti industriali. Piaggio ha basato la sua storia e il suo successo sull'innovazione, sulla capacità di immaginare un futuro invisibile agli altri, di interpretare i bisogni della gente in ogni parte del mondo. Questo museo non mette in mostra solo splendidi veicoli e macchine di grande ingegneria, racconta tante storie, ha spiegato Roberto Colannino, presidente e AD del gruppo. Japan Benix Corp e Sumitomo Corp lanciano il progetto Future Plant che permette attraverso un tetto fotovoltaico, i veicoli elettrici Nissan e le batterie dei veicoli di alimentare lo stabilimento principale di Japan Benix a Isaya in Giappone. Il sistema di stoccaggio dell'energia di nuova progettazione unisce energia rinnovabile, batterie riciclate e veicoli elettrici. Nissan sostiene il progetto con 10 veicoli commerciali 100% elettrici. I veicoli e le batterie contribuiscono alla stabilizzazione dell'energia erogata dall'impianto fotovoltaico e a ridurre i costi sostenuti dallo stabilimento per l'elettricità. Japan Benix e Sumitomo Corp hanno sviluppato insieme il sistema destinato ai Virtual Power Plant, il cui avviamento in Giappone è previsto entro il 2020. Queste centrali di energia virtuali ottimizzeranno i tempi di carica e scarica dell'energia per regolare la fornitura e la domanda di elettricità. In un'intera regione il progetto Future Plant aiuterà a diffondere l'uso dell'energia rinnovabile e a creare un sistema che promuova il riutilizzo delle batterie dei veicoli elettrici, ottimizzando la fornitura e la domanda di energia per realizzare una società a basse emissioni.